buona giornata amici benvenuti bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 3 marzo 2023 e vediamo subito qual è il santo del giorno con sfogliando l'almanacco vediamo che è santa cunegonda santa cunegonda era un'imperatrice dopo la morte del marito il marito era ottone terzo divenne imperatrice del sacro romano impero costruì un monastero a cunfunghen dove trascorse la sua vita in santità amministrò sì l'impero ma condusse una vita molto appartata e religiosa soprattutto in clausura in santità in un monastero insomma accostò la vita quella della politica con quella della religione e appunto della diciamo così in una atmosfera molto molto vattata come quella di un monastero che lei stessa fondò questa è santa cunegonda le previsioni del tempo di oggi le vediamo qui in questa grafica pubblicata dal corriere adriatico vediamo che le condizioni del tempo sono ancora piovose specie nei comparti centro meridionali delle marche la neve cadrà fino a mille metri di altitudine i venti saranno moderati da nord sulle coste da nord nord ovest sull'interno invece con una tensione più debole da nord le temperature sono in calo comunque vediamo che la minima è si attesta sugli 8 gradi la massima 10 lieve l'escursione termica questa appunto la cartina sulle marche vedete come nel sud delle marche le nuvole si stemperano diventano un colore più chiaro il che significa che c'è una visaglia di un piccolo rasserenamento ma che dovrebbe poi rafforzarsi nel fine settimana ma staremo a vedere dunque siamo sul corriere adriatico quindi lo apriamo sulla pagina di fano e vediamo il titolo vediamo che ieri è stato presentata una iniziativa da parte dell'assessore alle attività produttive del comune di fano e tiene lucarelli in merito ad un sondaggio un sondaggio della popolazione affidato ad una ditta di settore la demoscopica è una ditta di carattere nazionale che è esperta in questo genere di iniziative qual è lo scopo del sondaggio è quello di rilevare le indicazioni dei cittadini saranno 1500 quelli che saranno ascoltati per via telefonica quindi se riceverete una telefonata da parte di demoscopica avete così 6 7 8 minuti di tempo da dedicare non chiudete il telefono ma partecipate a questa iniziativa si tratta di evidenziare quelle che sono le attività in merito al commercio di ogni cittadino per poi trarre le dovute conseguenze ebbene ciò che i cittadini desiderano come fare gli acquisti dove farli che rapporto c'è con il centro storico si privilegia le commerce oppure i negozi i negozi del centro storico i negozi di vicinato la grande distribuzione ebbene sono tutti i comportamenti che poi saranno valutati dall'amministrazione comunale per prendere i dovuti provvedimenti al fine di incentivare il commercio nella nostra città a stabilire un rapporto equo ed equilibrato tra consumatori e commercianti e poi fare lo stesso sondaggio con le imprese in modo da avere una visione completa di tutto il comparto commerciale e come dicevo assumere i dovuti provvedimenti per valorizzarlo questo è appunto l'iniziativa che comincerà tra pochissimi giorni probabilmente anche al fine prossima settimana e si protrarrà fino al mese di aprile 1500 sono gli utenti che verranno appunto sondati sono circa un 900 mi sembra oppure dunque sono circa 800 quelli che non fanno parte del comune di Fano gli altri invece sono cittadini fanesi si sondano anche i comuni vicini per allargare lo sguardo su tutto il territorio perché poi anche i comuni vicini i residenti dei comuni vicini fanno riferimento per le spese anche ai centri commerciali ai negozi fanesi ieri è stato presentato anche un progetto importante per quanto riguarda lo sport la riqualificazione della Zengarini per un importo di 3,2 milioni di euro di cui una parte sarà finanziata con il PNRR un progetto importante tre sono le aree di intervento si tratta della la ristrutturazione diciamo così della tribuna che da tempo è inagibile anzi dobbiamo dire dalla sua realizzazione nei primi anni 90 questa tribuna è nata male per un errore e non è stata mai usata in maniera propria e quindi sarà tutta ristrutturata dentro ci sono gli spogliatoi e la tribuna poi sarà di vita anche a poter ospitare il pubblico che potrà visionare gare di carattere nazionale ed anche internazionale perché poi tutto il complesso verrà valorizzato un altro intervento verrà fatto sulla pista di cui verrà rifatto il manto ma quello più poderoso quello più rilevante è la realizzazione di un rettifilo nella superficie dove attualmente si trovano gli impianti per il tiro con l'arco lì verrà realizzata una costruzione dove si potranno esercitare tanti sport al chiuso quindi una struttura indoor che sarà funzionale sia d'estate che d'inverno sia nei giorni dove c'è la luce sia quando insomma cala la sera quindi un arco di tempo a disposizione maggiore dell'attuale ebbene vi si potranno praticare le discipline della velocità breve 30, 80, 100, 110 metri e poi si potranno praticare gare e allenamenti di salto in alto salto con l'asta, scherma, lancio del peso, sollevamento pesi, judo e tanto tanto altro quindi una grande palestra in realtà una palestra non solo per gli allenamenti ma anche per le gare che potranno essere fatte e quindi tutto l'impianto della Zengarini verrà efficientato in maniera importante anche per attirare atleti e pubblico anche da altre località vediamo le altre notizie pubblicate sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico ma questa notizia è anche sul resto del Carlino ebbene è un lutto, un lutto che fa piangere il cuore addio a Giorgio Tonelli fondò la Virtus in lutto la Palavolo Provinciale portò il settore giovanile ai vertici nazionali era stato anche il segretario della Carnevalesca ebbene ieri è cominciata la giornata con questa brutta notizia è deceduto Giorgio Tonelli figura carismatica della Palavolo Fanese e della Carnevalesca le due passioni che avevano animato gran parte della sua vita è deceduto all'età di 75 anni a causa di un male che non perdona Giorgio l'aveva affrontato con grande forza d'animo aveva attraversato degli alti e dei bassi poi alla fine il male ha avuto il sopravvento e appunto nella notte di ieri è deceduto ebbene il ricordo di tante persone oggi viene pubblicato dai giornali è un ricordo sentito un ricordo che deriva non solo da quanto Giorgio Tonelli aveva fatto sia per valorizzare il Carnevale un impegno costante come segretario per tanti anni lo ricordo in questo caso molto molto profondamente Luciano Cecchini che era stato il suo presidente che lo aveva avuto con sé a fianco per tanti tanti anni Giorgio era un segretario puntuale un segretario amministrativo che lo aiutava a risolvere tanti tanti problemi ma era anche uno che metteva le mani in pasta non scriveva soltanto e poi la sua grande passione il volley aveva fondato nel 1964 la Virtus dandole poi quell'impulso fino a che la squadra ha raggiunto livelli livelli veramente altissimi fino ai campionati di eccellenza ebbene questo era Giorgio Tonelli un ragazzo semplice un ragazzo che si faceva stimare da tutti e che amava proprio la sua città non mi dilungo perché veramente fa male al cuore leggere queste notizie vi dico solo che i suoi funerali saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa di San Pio X passiamo alle altre notizie a Fossombrone a Fossombrone si parla del Giro d'Italia e per far sì che questa squadra che questa gara si svolga nel migliore di modi si asfaltano le strade quindi il Giro d'Italia è anche l'occasione per risistemare la viabilità fossembronese strade da sistemare e decoro nuovo look per il Giro d'Italia a Fossombrone parte un programma di lavori per 650 mila euro per la tappa di maggio ebbene si tratta di impiegare 450 mila euro per il rifacimento del tratto di strada da Calmazzo a Piancerreto altri 190 per la strada dei Capocini e poi altri interventi su una cura della provincia nel tratto di Piancerreto ponte della Concordia e per la strada delle Cesane con il primo tratto già sistemato fino alla Rocca Malatestiana fin qui i dati ufficiali e poi ce ne sono tanti altri basta continuare a leggere l'articolo e poi abbiamo a fondopagina un articolo che riguarda non solo Fano ma riguarda un po' tutti i comuni dell'ambito numero 6 è il presidente dell'ambito Dimitri Tinti assessore al welfare del comunità del comune di Fano ma in questo caso appunto presidente d'ambito risponde a quella signora che aveva elevato la sua protesta perché gli era arrivata una lettera che le chiedeva di comunicare l'Isee perché d'ora in avanti avrebbe dovuto pagare in parte il costo del trasporto della propria figlia che frequenta un centro diurno un centro diurno il mosaico appunto che si trova nell'entroterra un costo che fino adesso fino a poco fa non veniva sostenuto dalle famiglie con bambini disabili però l'assessore Tinti informa che si tratta di una disposizione di legge il pagamento del trasporto dei disabili sia in ambito urbano che in quello extraurbano è dovuto per legge informa l'assessore una legge entrata in vigore due anni fa che il comune di Fano e poi l'ambito hanno applicato gradualmente finché non è stato approvato un regolamento valido per tutti i comuni rappresentati dall'assemblea dei sindaci ebbene rispondendo a quella mamma con una figlia disabile l'assessore Tinti dice che si tratta di una tariffa che integra soltanto e non copra il costo totale del servizio la cui differenza rimane sempre a carico delle comune il provvedimento fa riferimento ad un unico a un testo unico regolamentare dei servizi sociali il cosiddetto TURS la cui applicazione era stata fortemente sollecitata anche dai sindacati ebbene ci sono due tipi di servizi ci sono quelli che rispondono al livello essenziale di prestazione sociale come la frequenza nei centri diurni che sono totalmente gratuito poi ci sono dei livelli che non rientrano in questa fase come servizi accessori così come viene considerato il trasporto tra la località di residenza e la località dove c'è il centro diurno in questo caso non essendo un servizio essenziale di assistenza parte del costo viene posto per legge a carico delle famiglie questa è la risposta dell'assessore anche se poi insomma questi provvedimenti di legge chi le fa dovrebbe tenere conto delle condizioni e del contesto in cui si va a operare che è quello delle famiglie con disabili le quali hanno molti molti problemi a cui pensare e molti problemi da risolvere insomma la situazione è sempre un po' così complessa diciamo Amarotta Amarotta via Romani la zona più colpita dall'ultimo temporale altri danni e serenità persa da molti residenti Amarotta dopo la grande paura sale la rabbia tempi lunghi per i lavori chi ha avuto mercoledì scorso i garage allagati ha lavorato fino a tarda notte per svuotare i semi interrati dall'acqua e dal fango e purtroppo non è la prima volta che questo accade Amarotta Amarotta è particolarmente soggetta alle alluvioni molta acqua scende dalle colline a retrostanti scende attraversando la A14 l'autostrada per poi dilagare nei campi e quindi invadere anche le abitazioni che si trovano nei pressi ebbene ora si fa la conta dei danni a Amarotta Nord e ad avere la peggio sembrano essere stati gli abitanti di via Romani infatti mentre le tavole poste di fronte al garage in via Ferrari e i sacchetti di sabbia davanti alle scuole via Corfu hanno funzionato la piena di mercoledì mattina si accanita soprattutto su via Romani queste altre vie si sono salvate perché hanno messo queste barriere di fronte alla irruenza dell'acqua piovana mentre via Romani che era in difesa purtroppo è stata danneggiata e poi vediamo a Senigallia a Senigallia ci sono ancora troppe abitazioni a rischio bisogna trovare una casa a quelle famiglie è stato un appello questo del sindaco Olivetti l'appello di Olivetti per cercare gli indenizi ieri i sindaci hanno incontrato acquaroli sui fondi ci sono case che non potranno essere più abitate ha detto il sindaco il quale chiede di delocalizzarle in modo che i proprietari possono vivere in altre situazioni in altre strutture a distanza di quasi sei mesi dall'alluvione non tutti gli sfollati sono rientrati e oggi ci si prepara ad affrontare l'ennesima allerta meteo sì perché ancora il maltempo si sta minacciando il nostro territorio e particolarmente specialmente i territori fragili sono molto a rischio e vediamo anche qui un altro articolo che riguarda Senigallia ex colonie Enel seconda variante il traffico è più soft sul lungomare completamento di via Rieti fino a via Grosseto e parcheggio con colonnine per la ricarica elettrica che cosa evidenzia questo articolo evidenzia che è stato avviato l'iter per la seconda variante al progetto di riqualificazione dell'ex colonie Enel che prevede il completamento di via Rieti fino a via Grosseto e poi anche un grande parcheggio pubblico attrezzato con colonnine per la ricarica elettrica questi appunto gli intendimenti della giunta apriamo il giornale ora anche sulla pagina di Pesaro dove vediamo ancora le proteste dei derubati di Villa Fastigi vogliamo le telecamere e il vigile di quartiere le ronde non servono parlano gli esercenti vittime dei furti e chiedono sorveglianza sulle vie di ingresso a conti fatti sono quattro i varchi da presidiare in via Fastigi l'uscita del centro abitato in corrispondenza della rotatoria sulla Monte Labattese le due scite ad alto flusso di traffico di via dei canonici e strada in sala e per questo video sorvegliare i varchi con le modalità di lettura delle targhe rappresenta una priorità e sono veramente ammareggiati questi commercianti questi residenti che sono stati vittime di furti c'è stata veramente un'ondata di furti che ha sollevato le ire di tutto il quartiere a Villa Fastigi però insomma tira un'aria veramente pesante c'è una precisazione dell'assessore Enzo Belloni il quale dice nessuna azione eclatante è un secco no a chi crede che la soluzione per contrastare queste incursioni ladresche possa derivare dalle ronde nei quartieri quindi niente ronde però insomma un'implementazione della sorveglianza una maggiore presenza della polizia locale ma anche delle altre forze dell'ordine in questo caso ci vuole perché insomma questi abitanti non ne possono più di essere così svaleggiati e poi quando uno è quando un ladro entra dentro una casa a parte quello che porta via distrugge tutto e quindi fama bassa di ricordi di situazioni di di passioni di tante cose che fanno male veramente al cuore avevamo il nemico in casa la paura è diventata rabbia l'avvertimento dei cittadini sulla tentazione di reagire se messi alle strette e qui abbiamo un ritorno sull'articolo che ho appena menzionato ed ora parliamo ancora del delitto compiuto da Michael Alessandrini che in questo momento è detenuto a Timisoara appunto in Romania non voglio tornare in Italia avrebbe detto Michael dopo aver confessato di essere l'autore dell'omicidio nei confronti di Pierpaolo Panzieri Michael Alessandrini trentenne pesarese in stato di fermo in Romania per l'omicidio di Pierpaolo Panzieri ha parlato davanti al giudice che lo ha interrogato in Romania comunque il tentativo della difesa dell'imputato è quello di presentare la richiesta di perizia psichiatrica una perizia di parte per quanto riguarda un incidente probatorio che potrebbe diminuire la responsabilità dell'accusato illegale ha parlato di una capacità mentale fortemente scemata o addirittura esclusa insomma non sarebbe stato in equilibrio quando ha compiuto questo terribile atto Michael Alessandrini e poi vediamo che è un altro tentativo di evasione dico un altro perché c'è stato quello più eclatante dei giorni scorsi di un mafioso che è riuscito ad evadere da un carcere ritenuto i più sicuri d'Italia in questo caso un tentativo di fuga è stato attuato a Villa Fastigi a Pesaro si tratta di uno straniero 27enne che ha tentato di evadere dal carcere evasione non riuscita anche qui l'uomo aveva dato segni di squilibrio arrestato per reati di resistenza pubblico ufficiale spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi e in modo conclamato affetto da gravi patologie di natura psichiatrica insomma anche le detenzioni in carcere di questi soggetti è particolarmente discutibile perché poi insomma questi possono reagire in maniera in consulta ancora sul Corriere Adriatico sulla pagina di Pesaro vediamo che si parla ancora del nuovo ospedale di Muraglia un ospedale che si progetta a misura di paziente un confronto c'è stato in merito a questa nuova struttura che dovrebbe sorgere sulle colline del Monte Ardizio a Muraglia sul progetto c'è stato un sopralluogo dell'assessore Balbelli con l'ingegnere della regione attenti alle esigenze lavorative e di benessere l'obiettivo è quello di progettare e costruire un nuovo ospedale perfettamente inserito sia nel contesto urbanistico e ambientale di Muraglia che risulti però non soltanto sicuro dal punto di vista sanitario ma anche tecnologicamente avanzato a partire dalla disposizione degli spazi dell'arredo verde e modellato sulle esigenze di guarigione del paziente è un ospedale non può altro che essere modellato sulle esigenze di guarigione di un paziente e vediamo che oggi riapre anche la strada Carloni e tra cinque mesi la bretella sarà conclusa ok alla staffetta con via Fratti il cantiere per la ciclabile partirà il 13 marzo diamo un'occhiata ora al resto del Carlino dove l'apertura è dedicata alla pista Zengarini tutta nuova unica in Italia e vediamo qui un bellissimo rendering del nuovo profilo che verrà realizzato dove ora si trova il tiro con l'arco questa nuova struttura indoor dove potranno esercitarsi molti sport all'interno di una struttura protetta e poi parlando di sport dobbiamo anche qui riferire della morte di Giorgio Tonelli lo sport piange Giorgio Tonelli campione di garbo e di solidarietà l'ultima telefonata l'amico Bonazzelli mi ha detto saluta tutti per me probabilmente Giorgio aveva percezione di quello che stava accadendo ci sono tanti ricordi anche sul giornale sul resto del Carlino questa mattina ne parla Luciano Cecchini Nino Bonazzelli abbiamo altri ricordi per esempio sulle Corriere Adriatico abbiamo visto anche il ricordio di Emilio Cenerilli che è l'attuale presidente della Virtus e quello dell'assessore allo sport Barbara Brunori insomma sono tante le persone che hanno espresso il loro cordoglio per questo lutto e qui vediamo invece una riunione che si è svolta nel pomeriggio di ieri nella sala della concordia del comune di Fano con i residenti e i commercianti di Viale Dante Lighieri due posizioni opposte uno per quanto riguarda la salvaguardia dei parcheggi quell'altro invece per quanto riguarda la persistenza della pista ciclabile ma l'accordo è difficile da raggiungere Viale Lighieri sperimentazione ancora per nuovi per altri 20 giorni parcheggi a sinistra marciapiede a destra animata assemblea ieri sull'arteria cittadina contesa il sindaco Seri così è brutta e ha un problema di sicurezza ma il compito di trovare la soluzione spetta a noi spetta l'amministrazione comunale alcuni residenti non si può scegliere tra ciclisti e pedoni bisogna tutelarli entrambi e questo è giusto perché sia i ciclisti che i pedoni sono frutto di una mobilità fragile posso soltanto continuare a dire quello che accadrà l'8 marzo siamo in conclusione festa della donna ieri sono state evidenziate dall'assessore alle pari opportunità Sara Cucchiarini le iniziative dell'8 marzo saranno tre giorni 7-8 nuove con incontri mostre al pari centro e un film un bellissimo film documentario al Masetti e questa è l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani come sempre alle ore 7 buona giornata e buona continuazione speriamo ciao 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 Autore dei sovrapposti